Buongiorno amici di The Breakfast Bug, io sono Ol e qui abbiamo un nuovo video di prime impressioni. Il gioco che vi voglio far vedere è Project I-Rise, uno gestionale di condomini, palazzi, hotel, qualcosa di simile. Il gioco è molto carino, l'ho acquistato anche a un prezzo decisamente basso, per non dire ridicolo. Si trova su Steam, è uscito dall'Early Access, quindi è un gioco completo e anche abbastanza apprezzato e erodato. Se vi piacciono i gestionali, adesso vi faccio vedere perché, secondo me, dovete prenderlo. Abbiamo modalità New Game, che è gioco libero, scenario, che ti offre appunto degli scenari, la possibilità di caricare dei giochi, il tutorial, le mods, che ancora non ho provato, comunque essenzialmente la comunità su Steam ti mette a disposizione dei mods. Si possono tranquillamente scaricare grazie a Steam, workshop appunto, e poi si possono attivare. In questo caso io ho attivato un quadro di un gatto nero, tanto per vedere come funzionano. Poi abbiamo le opzioni che andiamo a vedere velocemente, il gioco, il linguaggio è in inglese ma anche in italiano, quindi lo mettiamo in italiano così è un po' più comodo durante questo breve let's play. Formato orario 24 ore, numerico 1000, ci sono tutti i formati del mondo, suggerimenti e il salvataggio automatico ogni 5 giorni virtuali. Graficamente possiamo giocare il schermo intero, la risoluzione, la qualità, le proporzioni dell'interfaccia e i colori per leggibilità, quindi accessibilità. Audio, musica e effetti. La tastiera ti permette di mettere in pausa con lo spazio e poi ci sono le informazioni sulla privacy. Voglio farvi provare uno scenario. Come vedete i scenari sono liberi o alcuni no, perché bisogna ottenere degli achievement prima di poterli sbloccare. Hanno diverse difficoltà, per esempio il rinnovamento del quartiere consiste nel rinnovare appunto il quartiere. media, fare, non lo so, qualche cosa, serate di baldoria, il market, tantissimi altri elementi, scenari bloccati, commerci che è dato da molto probabilmente l'espansione che ho acquistato, una delle due, e sì, hanno diversi livelli di difficoltà. Io direi che possiamo provare un rinnovamento del quartiere, così partiamo da un gioco già avviato e non dobbiamo partire da zero. Quando si parte da zero, però ve lo racconto, non è possibile costruire tutto al momento zero, ma giocando si sbloccano dei livelli, sono le stelline, la nostra qualità della vita, insomma, del palazzo, e ogni livello ci permette di fare cose, acquistare nuovi oggetti, aprire nuove tipologie di stanze, invitare nuovi coinquilini, tante cose. Questa è l'interfaccia, l'interfaccia è pixel art, 2D molto schiacciata, che può piacere o no. Qui è tutto il pannello di gioco, qua sopra abbiamo alcuni strumenti che sono reportistiche, sotto abbiamo il pannello della velocità, il nostro livello, le stelle di cui vi parlavo, il numero di inquilini e il numero di, credo, ascensori. Il nostro denaro, abbiamo già il budget, non il budget, la stima di quanto guadagniamo o perdiamo, nel nostro caso stiamo perdendo ogni giorno, il numero di punti che, non mi ricordo come si chiamano, comunque ci permettono di acquistare campagne pubblicitarie, migliorare, ottimizzare il nostro palazzo, e poi abbiamo gli strumenti di costruzione e di decoro, decoro che è generalmente gratuito, tranne alcuni elementi che costano, tipo le statue. E poi abbiamo reportistiche e altre cose, adesso le vediamo tutte. Comunque, l'obiettivo dello scenario è rinnovare il quartiere. Quindi dobbiamo avere un ricavato giornaliero di 50.000 o più dollari, adesso abbiamo un ricavato di meno 2.300. Vai. Allora, il gioco parte in velocità, come vedete, la schermata di gioco è questa, e il nostro palazzo non può estendersi oltre questi bordi. In realtà, non è vero, può estendersi meno di questi bordi, però può andare in altezza quanto si vuole. Vi faccio vedere gli strumenti velocemente. Intanto qua vi dico l'entusiasmo e questo è l'influenza, ecco qua. Possiamo costruire piani, quindi abbiamo appunto questa gru, infrastrutture, operai, rifiuti, magazzino, transito e altri che sono gli atri essenzialmente. Possiamo aggiungere piani, come vedete, quando si va in aggiunta di piani, parte un progetto in stile architetturale, ma in realtà è molto becera come cosa. Come vedete, possiamo andare da qui a qui, in costruzione, quindi ci sono i bordini che serviranno poi per tutti i vantaggi, i benefit, tipo la fermata dell'autobus, per intenderci. Possiamo andare in profondità di 7 piani, ma in realtà non è vero, possiamo scendere ancora molto di più e possiamo andare fino al piano 39, se non ricordo male, si può anche estendere. Per creare un nuovo piano si trascina e si paga. Io adesso ho speso un sacco, ho speso 1000, ho creato un nuovo piano. Chiaramente il piano non è raggiungibile, quindi si va avanti, si mette un ascensore, pam, pam, così prolunghiamo appunto la corsa dell'ascensore. Non è possibile piantare degli ascensori a caso, scale a caso, devono essere abbastanza collegate le cose. Stesso discorso per le scale, ma nel nostro palazzo non abbiamo scale, proprio non ci sono. Possiamo assegnare spazi per gli oggetti, tipo il check-in, se dobbiamo fare un residence, in questo caso è un residence, credo. No, non lo è. Comunque se siamo hotel, sedi di eventi, casino e cartelloni, casino è dato da un'espansione. Possiamo assegnare spazio per i ristoranti e i bar di diversi tipi, quindi marchiamo una stanza come bar e poi negozi, market di tutto. Abbiamo poi i servizi, quindi tipo servizi di spedizione, cancelleria, fornitura acqua, tutte cose che servono per migliorare la qualità della vita. Possiamo costruire uffici, quindi consulenti, immobiliari, eccetera, cose che non sono sbloccate perché, per esempio, in questo caso abbiamo bisogno di 10 punti influenza prima di poter aggiungere l'ufficio. Possiamo aggiungere opere d'arte e in questa troveremo molto probabilmente anche il quadro gatto nero. E elementi decorativi che sono gratuiti. Ma direi di andare avanti. Ah sì, abbiamo il pannello delle elettricità, linee telefoniche e altre utenze che sono necessarie, cosa che faremo subito. Alziamo la torretta del nostro nuovo piano, portiamo l'elettricità ovunque. Il telefono idem, la torretta dell'elettricità porta anche al piano superiore o inferiore il telefono. La tv via cavo c'è e quindi la portiamo. Così diamo dei benefit ai nostri inquilini. L'acqua non c'è, per esempio, non portiamo acqua, forse non serve. Il gas serve ai locali, in questo caso no, e la ventilazione se proprio vogliamo. Come vedete qui abbiamo diverse strutture, c'è questa struttura a piano che permette di portare appunto elettricità, telefono e via cavo. E poi abbiamo la centrale a un certo punto che viene costruita in questo modo. Possiamo creare trasformatori di diverse dimensioni e diverso costo e metterle giù. Ok, usciamo dalla pausa, quindi usciamo anche dalla modalità costruzione e vediamo che nel nostro nuovo piano ci sono tutte le cose in baracche e burattini. Perché i nostri operatori non sono ancora saliti al piano successivo, quello appena creato, e non hanno iniziato a mettere giù gli impianti. Però vediamo un po' cosa abbiamo. Abbiamo delle unità, sono dell'agenzia sicurativa, fiscalista, quindi è una zona commerciale. John, sono tutti felici direi. Abbiamo un bar, una tavola calda, abbiamo un bar qui, abbiamo un sommelier qua con i suoi vini. Un'edicola, credo sì. Altri locali, quindi insomma i locali non mancano. Qui giù c'è un quadro con una signora veramente fuori epoca. E sotto abbiamo tutti gli schiavi water che stanno attendendo di poter andare a dare il loro contributo lavorativo. Quindi, ok, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Diamo un po' di velocità e sprint al gioco. E iniziamo a segnare i posti. Allora, cosa c'è? Aspetta. C'è un mio conquilino infastidito. Andiamo subito a vedere cosa vuole. Qua è incazzato. Sta pensando di andarsene perché l'affitto è troppo alto e i nostri dipendenti non sembrano difficili qua. In più c'è l'unità in cattive condizioni, quindi conviene mandare il riparatore a sistemare l'unità. Non è soddisfatto per niente. Adesso vediamo cosa poter fare. C'è da dire che è fuori mano. Nessuno passa di qua per uscire perché l'uscita è qua. Quindi conviene sempre mettere i locali in una zona trafficata, in quanto gli omini che devono uscire si fermano e si fermano lì. Poi vedete che questo è tutto immerdato, quindi conviene veramente sistemare la zona. In più non abbiamo un ufficio di fianco, potrebbe far comodo. Anche questo è abbastanza immerdato. Abbiamo anche la possibilità di mandare tutti i nostri... dove sono? I nostri lavoratoroccoli. Questi. Manutenzione. Possiamo dire vai a fare manutenzione su tutto. Lo facciamo. Quindi abbiamo speso 1.900 oggi. Stiamo spendendo un sacco. Ma adesso i nostri omini, i nostri dipendenti schiavi water, andranno a sistemare tutti gli uffici che sono in situazioni deplorevoli. Affitto troppo alto. Abbassiamo l'affitto un pochettino. L'affitto più basso del previsto. Fantastico. Ok, i nostri dipendenti non sembrano felici. Ma intanto un po' di più. Continuiamo. Andiamo a costruire qualcosa. Possiamo costruire... E' finita aggiornata. Intanto ci dà il budget. Vabbè. Abbiamo speso 10.000. E ne abbiamo guadagnato 1.100. Abbiamo costruito cose. A questo piano qui non abbiamo uffici. Allora possiamo creare... Assegnare uffici piccoli o uffici medio... Anche grandi e sede generale. Che non possiamo fare perché come vedete serve un prestigio di 14, di 9, di giusto 3. Noi abbiamo 3. Adesso siamo già aumentati. Iniziamo con gli uffici piccolini. Perché abbiamo poi già tutti i blocchi. Quindi questo non si può fare perché non è ancora partito. Benissimo. Allora iniziamo ad allocare spazi. Allocare spazi significa avere il pagamento appunto dell'affitto. Conviene andare a prendere quelli che costano di più. Quelli che pagano di più. 170 in questo caso. Però ogni tipologia di lavoro e quindi di potenziali locatari ha delle richieste. Per esempio in questo caso lo studio di grafica pagherebbe 170 al giorno. Pagherà 170 al giorno finché non se ne andrà. Mi costa 150 il primo giorno per costruirlo. Il prestigio è a posto. E vogliono linea elettrica e linea telefonica. Che ci sono? In più vogliono servizi di spedizione che abbiamo. E negozi di cancellaria che abbiamo. Quindi vai. Poi possiamo mettere uffici legali così ci fanno causa. Direi di sì. Vai due uffici. Un ufficio legale e un ufficio di assicurazioni. Più avanti arriveranno uffici anche più grandi con delle esigenze particolari del tipo lontani da posti rumorosi. Questo può essere un problema perché a volte bisogna rivedere leggermente la struttura del piano per garantire spazi silenziosi. Quindi tenere per esempio questi uffici lontani dal bar. Ma è solo un esempio. Qui ci sono i contratti. Sono la reportistica che vi dicevo prima. Quindi ci dicono appunto come stanno andando. È un hotel? No, non è un hotel. Quindi non ce ne frega niente. Non è proprio... Non è un hotel. Quindi che cazzo volete? Stiamo facendo influenza. Benissimo. Cosa vuole questo? Sta pensando affitto troppo alto. Ci piace essere in una zona trafficata. Non hanno ricavato niente. Va bene. Troppi pochi clienti o troppa competizione. Quindi abbiamo troppi locatari di questo tipo qua. E io lo faccio sottoggiare perché non mi interessa tanto averlo. Vai. Poi? Ne abbiamo effettivamente troppi. Ok, qua intanto gli uffici del grafico delle assicurazioni sono a posto. Questo è felice. Qua non è ancora arrivato nessuno. Questo... Boh, si è trovato uno stalker lì davanti. Uh, cosa succede? C'è da fare manutenzione qua. Dai. Bravo. Fai manutenzione. Maledetto. Fai manutenzione. Bravo. Ok, non abbiamo scale. Quindi può essere un problema. Comunque stiamo guadagnando 500 al giorno. Procediamo. Ufficio di 2 lo potrei mettere... No, perché non abbiamo fatto... Non hanno fatto le strutture adeguate. In realtà lo potrei mettere qui. E poi mettere una discarica o qualcosa di simile. Tipo servizi. Io non mi ricordo mai dove sono. Distributtori, telefoni, luci, aree comuni. No? Vuole 3? Mi ricordo tantissimo che è possibile... Dove cavolo sono? È possibile infilare dei servizi di tipo riciclo. Potremmo anche fare monolocali. Come vedete, dipende anche da cosa vogliamo costruire. Se vogliamo costruire un settore residenziale, conviene fare quello. Eccetera, eccetera, eccetera. Servizi di stampa, archiviazioni, ristoro. No, non era qua. Lavanderia, raccolta, rifiuti. Questo è un servizio che possiamo mettere al piano terra. Dato che non l'ho visto. E non fa schifo dove lo mettiamo qua. Almeno uno sullo stesso piano. Stanza per raccortare dei rifiuti. Almeno uno sullo stesso piano. Vediamo un po'. Eccolo qua, rifiuti. Non lo trovavo. Qui abbiamo la possibilità di creare i bidoni. O la stanza dei rifiuti. E quindi di raccolta. Iniziamo con i bidoni. I bidoni chiedono due spazi. Che sono puliti. E questo lo potremo fare come studio medico. Ufficio creativo, legali, finanziari. Direi di vedere un po'. Se c'è qualcuno interessato. Nessuno, chiaro. Perché non soddisfano i requisiti. Abbiamo bisogno di ristoranti. Abbiamo ristoranti. Ristoranti. Ristoranti, ristoranti, ristoranti. Ristoranti, ristoranti. Insomma, vogliono tutti i ristoranti. Perfetto. Quindi potevo creare dei ristoranti a questo punto. Vediamo un po'. Spazio, ristorante medio. Neh. Mettiamo ristorante. Che ci sta tranquillamente. Ok. Fast food. Paga l'affitto. Paga l'affitto. Paga l'affitto. Benissimo. Trattorie, panini, insalate, pizzerie. Cosa vogliono questi? Mmm. Ristoranti per il pranzo. Dai. Quindi. Pizzerie. Ha bisogno della linea elettrica. Ha bisogno del... Dell'acqua. Ha bisogno anche di bidoni della spazzatura. E può andar bene. Questa pizzeria. Questa pizzeria, però, necessita appunto di acqua. Pertanto. Noi facciamo salire l'acqua. Che dovrebbe occupare due. Mh. Ploplo, 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 ploplo. Ecco. Che dovrebbe occupare due. Quindi andiamo subitissimissimo con acqua. Dobbiamo mettere una centrale. La mettiamo piccolina. E la mettiamo tipo... Qui. E poi andiamo con la tubatura dell'acqua. Anzi. Sì. Un piatto elettrico. Che? Che, che, che? Ah beh. Dobbiamo ancora costruire il tutto. Ok. Cosa vuole quindi? Felicità. Sherry lavora presso questo. Intanto abbiamo superato il tempo che mi ero... Mi ero riservato per questo gioco. Ok. Non c'è l'acqua. Lo so. Lo so, ragazzi. Ma devo... Devo stendere la casa. Che dovrebbe essere questa. Quindi... Prendiamo di acqua. Condotti. Ah, occupano uno. Benissimo. Plac. Acqua. Ok. Ora è l'acqua. E aperto a pizzeria. Vediamo se... Ah, ok. Ci sono e sono interessanti. Per esempio questo vuole... Servizi di pulizia, stampa commerciale. Esige. Uffici legali, non vengono. Servizi finanziari nemmeno, medici neanche. Quindi, ok. Mettiamo questo che esige, appunto, servizio di pulizia e stampa commerciale. Quindi, come vedete, il tutto si gestisce in questo modo. Cioè, diventa una catena di cose da gestire. Servizi di stampa commerciale che mancano. Le possiamo mettere qui. Benissimo. E poi voleva anche qualcos'altro. Cosa vuoi? Che è soddisfatto. Servizi di pulizia. E quindi, andiamo di pulizia. Che dovrebbe essere qua. Pulizia. Bah bah bah. Guardate che bello. Vicino all'ascensore. Vicino all'ascensore. Bruciamoci anche del posto. Però, vabbè. Quindi abbiamo tutto quello che serve. Un po' troppo rumoroso. Si sentono degli odori strani. E ne sono convinto. Come mai? Boh, perché c'è questo di fianco. Però qualcuno arriva. Ecco qua. Quindi, Project I-Rise. Ve l'ho portato. Due giorni non sono abbastanza per valutare il gioco. Due giorni di gioco non sono abbastanza. Magari faremo dei let's play anche nel futuro. Se vi interessa. O magari su un altro canale. Master and Servant. Dove facciamo appunto let's play legati a strategici. E giochi di questo tipo. Quindi city building. Oppure tower building. Vi consiglio di darci un occhio. Se vi piace il genere. Andate a cercarlo su Steam. Lo trovate non solo su Steam. Ma anche su Humble Bundle. Dove l'ho comprato io. E spesso si trova a prezzi quasi ridicoli. Detto questo. Fateci un giro. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Mettete un mi piace. Ma soprattutto commentate qui sotto. Per dirmi che cosa ne pensate. Se vi interessa. Se volete vederne altri di video di questo tipo. E qual è la vostra esperienza con Project I-Rise. Ciao.